Dunque riprendiamo con due argomenti, uno breve e l'altro un pochino più articolato, che si basano sulle liste, quindi questi già sono argomenti che già non ci saranno nella prova della settimana prossima, però ovviamente andiamo avanti, non possiamo rimanere fermi. Il primo tema molto semplice è quello delle cosiddette tuple, che è una struttura dati un po' strana, ma poi tutto sommato semplice, è una sorta di lista con la caratteristica che il contenuto di una tupla non può essere modificato dopo che è stato creato, quindi è come se fosse una lista immutabile, in cui non posso, una volta che ho creato questa specie di lista, non posso più modificare gli elementi al suo interno, quindi non ne posso aggiungere, non ne posso cancellare, non ne posso sostituire. A parte questo, questa limitazione si comporta esattamente come una lista, quindi le operazioni possono essere indicizzate tra indice e così via. la parola tupla è un po' strana, proprio come termine, se vogliamo la generalizzazione di una coppia, tripletta, quadrupletta, n-upla, anziché la n per dire un insieme di valori, una lista di valori, quindi anziché parlare di n-upla, hanno usato la lettera t anziché la lettera n per indicare la quantità generica di elementi e quindi t-upla, che non è due coppia, tripletta, tre-upla, quattro-upla, cinque-upla, t-upla, è condensato in tupla. Come si definisce una tupla? Si definisce attraverso delle parentesi tonde anziché delle parentesi quadrate. Quindi per definire una lista uso le parentesi quadrate, ho creato una lista con tre elementi, se definisco invece una, se uso invece le parentesi tonde sto creando una tupla e quindi è una struttura dati che contiene questi tre elementi come se fosse una lista con la differenza che appunto il primo elemento è 5, non si può modificare, il secondo elemento è 10, non si può modificare, non si può cancellare, non si può sostituire, altrimenti darebbe un errore. In realtà dal punto di vista della sintassi, le parentesi di tonde non servono a niente, perché, come dico io in gergo, è la virgola che fa la tupla, non è la parentesi. E quindi questa stessa scrittura sotto senza le parentesi tonde è esattamente la stessa cosa. Quindi crea una tupla con tre elementi, poi in realtà per ragioni di leggibilità si preferisce sempre indicare le parentesi tonde, però quello che conta è una serie di elementi separati da virgola costituiscono, costruiscono di fatto una nuova tupla. E cosa ci posso fare con le tuple una volta che le ho create? Beh, posso fare tutto ciò che potevo fare con le liste, assolutamente, tranne le operazioni che modificavano la lista. Quindi posso concatenarle, concatenare due liste mi dava una lista nuova, concatenare due tuple mi dà una tupla nuova, questo lo posso fare, non sto modificando le tuple esistenti, ne sto creando una nuova. Posso usare le varie funzioni, i vari metodi che andavano a estrarre i valori, quindi la lunghezza, il massimo, il minimo, ing, find, cioè sull'altro index, tutto ciò che mi permetteva di interrogare i contenuti di una lista lo posso fare su una tupla, posso accedere ai singoli elementi con tupla di zero, tupla di uno, tupla di due, oppure con una slicing, semplicemente non posso, non ho l'append, non ho l'extend, non posso assegnare dei valori, non ho il pop, perché questi andrebbero a modificare il contenuto della tupla. Allora, al di là del uso di una tupla come una lista del genere, nel senso che non è in grado di fare tutte le cose che farebbe una lista, sintaticamente troviamo molto utile usare la sintassi delle tuple per avere delle scorciatoie, cioè ad esempio è possibile scrivere cose di questo genere, in cui sulla destra dell'uguale cosa sto facendo? Sto costruendo una tupla con tre elementi, sulla sinistra dell'uguale sto scrivendo una sorta di tupla con tre nomi di variabili. Allora, questo è una scorciatoia che è valida in Python, per cui assegna il valore 12 alla variabile ora, esistente se ci esisteva già oppure nuova, il 32 è la variabile minuti, il 55 è la variabile secondi, quindi è un po' una assegnazione compatta in cui in un'istruzione sola assegno o creo tre variabili nuove. In questo caso ha senso perché magari veramente sono ora, minuti e secondi, quindi rappresenta un orario e io definisco questi tre variabili. Tecnicamente si dice che sulla destra dell'uguale costruisco una tupla e ho una assegnazione destrutturante, cioè destruction in assignment, cioè sulla destra ho una struttura dati, una tupla, sulla sinistra destrutturo questi dati, quindi li spesso, li scompongo e li assegno a singole variabili. Questa è una sintassi di assegnazione, l'abbiamo vista come esempio qua sulla tupla, ma più in generale sotto certe condizioni Python capisce che deve andare a spacchettare il contenuto di una lista, di una tupla e separarlo nei suoi variabili, nei suoi valori costituenti. Ecco, questa sintassi qua si usa talvolta, ma si usa molto più spesso quando si devono fare operazioni ad esempio di scambio di elementi. Ad esempio immaginavo di avere una lista e voler scambiare tra di loro il primo e l'ultimo elemento, tra di loro. Allora, normalmente uno scambio di due elementi è un'operazione che richiede tre istruzioni, perché devo prendere lista di due e metterlo dentro lista di zero. Però così facendo perderei il valore vecchio che avevo in lista di zero. E allora per fare questo tipo di scambio, scusatevi fatemi prendere un file qualunque, giusto per scriverci, dovrei scrivere, se io scrivesse lista di zero uguale lista di due e lista di due uguale lista di zero non funziona, no? Perché nel momento in cui, questi sono i due scambi che devo fare, ma nel momento in cui faccio il primo scambio, il valore che c'era precedentemente nella cella zero, l'ho perso. L'ho sovrascritto col valore che c'era nella cella due, per cui poi alla seconda istruzione vado a prendere questa lista di zero, che non è più il valore vecchio, ma è già quello nuovo, e lo rimetto in lista due, a questo punto questa istruzione è inutile perché va a ricopiare lo stesso valore. Quindi quando volessi scambiare questi due valori, che è un'operazione che si fa abbastanza spesso, prima di sovrascrivere lista di zero, di solito uso una variabile temporanea per salvarmelo, in cui mi salvo il valore di lista di zero prima di sovrascriverlo, e quindi quando poi dovrò vedere qual è il valore nuovo della cella due, vado a prendere il valore che mi ero salvato per la lista di zero, per il primo elemento, no? Quindi normalmente in quasi tutti i linguaggi di programmazione, uno scambio di due variabili, uno scambio di due posizioni, richiede tre istruzioni e una variabile d'appoggio. Ecco, questo si può bypassare usando l'esternazione delle tuple in Python, costruendo sulla destra la tupla che mette insieme i valori che devo prendere, e sulla sinistra la tupla che mette insieme le variabili, o le posizioni dei valori, in cui devono andare a finire. Quindi fare questa istruzione, lista zero, lista due, uguale a lista due, lista zero, fa avvenire, tra virgolette, in parallelo le due assegnazioni. Quindi non è la stessa cosa che scrivere il primo elemento uguale al primo valore, e poi il secondo elemento uguale al secondo valore, perché questo porterebbe al problema che abbiamo visto prima, ma avvengono, diciamo così, di fatto i due valori vengono presi, messi da parte, e poi salvati nei stessi posti ma in modo incrociato. Quindi la costruzione di questa tupla di fatto gioca il ruolo della variabile temporanea. Quindi è comodo da questo punto di vista. Quindi, come struttura dati non è molto diversa dalle list, come dicevo, ma viene usata spesso per scorciatori di questo genere. Vedremo anche la settimana prossima, quando prenderemo le funzioni, che useremo il trucco di restituire una tupla quando vogliamo restituire più di un valore da una funzione stessa, ma è un tema che affrontiamo la settimana prossima. Quindi questo era solamente quando sentite nominare tuple, non spaventatevi, quindi tutto ciò che sapete sulle liste continua a valere. Mentre invece, l'altro argomento che già si era infilato e nascosto in qualche esempio che facevamo, ma adesso lo prendiamo in modo sistematico, è quello delle cosiddette tabelle. Cioè cerchiamo di passare da una rappresentazione, da un contenitore unidimensionale, come quello delle liste, ci spostiamo e cerchiamo di costruire dei sistemi, dei strutturi dati, dei contenitori bidimensionali, ad esempio, o più. Ecco, l'esempio facile che c'è sulle slide, c'è sul libro, è, immaginiamo, il medagliere olimpico, dove abbiamo una certa serie di nazioni che in un'ipotetica olimpiade hanno vinto un certo numero di medaglie, medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo. E vabbè, questi sono dei numeri ipotetici che noi visualizziamo facilmente in forma tabellare, con righe e colonne. Noi, quando li dobbiamo disegnare su un foglio di carta. Chiaramente è una lista di valori, no? Questi valori possiamo immaginare, no? Di generalizzarli, nel senso che potrebbero essere più tipi di medaglie diverse, potrebbero essersi più nazioni. Proviamo a immaginarlo non bloccandolo su tre tipi di medaglie, perché se mi chiedessero rappresenta questi dati con quello che so adesso, direi, vabbè, allora faccio tre liste, una si chiama oro, l'altra si chiama argento, l'altra si chiama bronzo, ciascuna lista avrà quella serie di numeri, diciamo così, che abbiamo scritto qua in colonna. Però avrai tre variabili diverse, tre liste diverse, che mi devo portare dietro ogni volta, che voglio rappresentare l'interno insieme di dati. E se poi nascesse un quarto tipo di medaglia, che ne so, di diamante, devo rifare tutto il programma, perché avendo variabili distinte non ho la possibilità di variare il numero di tali variabili. Allora ci chiediamo, ma è possibile invece creare un contenitore in cui ci siano tutti quei numeri dentro, così ce l'abbiamo in una variabile sola, e poi possiamo accedere al singolo elemento conoscendo la riga e la colonna. Certo che sì, in realtà non ci sarebbe nulla di speciale, nel senso che questi sono dei numeri, ci sono otto nazioni, noi potremmo fare una lista di 24 elementi, di cui i primi otto magari sono i punteggi, cioè il numero di medaglie d'oro, i secondi otto sono il numero di medaglie d'argento, i terzi otto sono il numero di medaglie di bronzo. E' chiaro che quando mi chiede poi l'elemento numero 17, per dire, di questa ipotetica lista, ci vuole un attimo di pensiero per capire il 17 che cacchio è? Allora, 8, 16, il 17 è il diciottesimo, quindi è, se i primi da 0 a 7 sono le medaglie d'oro, dalle 8 al 15 sono le medaglie d'argento, il 16-17 sarà la medaglia di bronzo dell'Italia. Ci si arriva, per carità. E' un po' complicato mappare su una linea da 0 a 23 quello che per noi invece è un'informazione bidimensionale. il tipo di medaglia e il tipo di nazione. L'altro modo potrebbe essere sempre, invece di avere sempre una lista di 24 elementi, dove i primi 3 sono questi qua, i primi 3 sono le medaglie del Canada, quindi, indice 0, indice 1, indice 2, poi i 3 successivi sono le medaglie dell'Italia, indice 0, scusate, indice 3, indice 4, indice 5, poi i 3 successivi sono le medaglie della Germania, quindi, indice, siamo arrivati a 5, 6, indice 7, indice 8 e così via. Quindi, io posso spalmare una matrice bidimensionale dentro una lista, memorizzandola per colonne, quindi, prima tutti gli elementi della prima colonna, poi tutti quelli della seconda, poi tutti quelli della terza, oppure spalmandola per righe, serializzandola, si dice, per righe o serializzandola per colonne, in cui i primi elementi sono la prima riga, poi i secondi elementi sono la seconda riga e così via. Ok? Questo si può fare, però, immaginate che è scomodo, perché, appunto, se voglio sapere le medaglie d'oro del Kazakistan e se le avessi serializzate per righe, devo andare a vedere qual è l'indice. L'indice 3 volte 3 per 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la quinta nazione, quindi sarà l'indice 15. Cioè, devo farmi della aritmetica sugli indici per andare a trovare un elemento che io so dove l'ho messo, ma la struttura dati non lo sa, perché per lei è una lista semplice. ma in realtà questa stessa informazione si può rappresentare in un modo molto più comodo complicando un pochino la rappresentazione dei dati. Quindi, non una sola lista, ma in questo caso è una lista di liste. l'abbiamo già visto saltare fuori una lista di liste quando sbagliavamo a fare l'appendo e le insert ricordate che saltava fuori una lista in cui un elemento a sua volta era una lista. Adesso qua lo usiamo a nostro vantaggio. Cioè, noi abbiamo una lista e, scusate, lo vedo, vai via, lo vedo da queste parenti di quadra esterne i cui elementi sono otto tante quante sono le nazioni tante quante sono le righe di questa tabella e ciascun elemento a sua volta è una lista che contiene in questo caso sempre tre elementi guarda caso quante sono le tipologie di domande cioè quante sono le colonne di questa tabella. Ok? Quindi io qua l'ho disegnato in questo modo quindi ho creato una lista di liste la lista esterna contiene tanti elementi quante sono le righe. Quindi è una lista di righe ciascun elemento di questa lista a sua volta è una lista che contiene gli elementi delle varie colonne relativi a quella riga lì. Quindi la prima listarella interna è 030 che sono le tre colonne della prima riga della riga di indice 0 la seconda 001 sono gli elementi della seconda riga della tabella quella che è di indice 1 e così via chiaro che disegnata così si vede il parallelismo con la con la tabella precedente però non sempre chiaramente la scriviamo così internamente dobbiamo pensarsela come elementi annidati ce l'ha fatta così in realtà questa struttura dati noi abbiamo una variabile che conta le medaglie questa è una variabile questa variabile di che tipo è? è di tipo lista questa lista quanti elementi ha? 8 e quindi avrà gli indici da 0 a 7 poi l'elemento conto di 3 counts di 3 per dire per prenderne 1 avrà un certo valore quindi io posso usare tranquillamente questa lista count di 0 count di 5 posso iterare su questa lista eccetera e vado a prendere il singolo elemento il singolo elemento quando lo vado a prendere scopro che non è un numero ma è a sua volta una lista e io sono stato ordinato e queste liste le ho costruite tutte di 3 elementi di 3 elementi che corrispondono in questo caso questi 3 elementi facciamo un esempio della lista della quinto elemento lista di 4 contengono 3 numeri interi e sempre perché sono stato ordinato l'elemento 0 è sempre relativo alla medaglia d'oro l'elemento 1 è sempre relativo alla medaglia d'argento l'elemento 2 è sempre relativo alla medaglia di bronzo questo non lo sa Python lo so io che le ho messe così dentro le cose la stessa cosa vista con il disegnino fatto interattivamente da Python Tutor ma diciamo così cogliamo l'esempio quindi proviamo a vedere effettivamente fatemi fare copia e incolla di questa cosa nel codice medaglie no medaglie.py magari rename ok cogliamo il codice qua vediamo che funzioni tutto e proviamo a vedere cosa salta fuori qui la variabile si chiamava counts e se io la stampo viene fuori così occhio ha le doppie parentesi quadre in apertura quella esterna è la lista esterna quella la seconda è la lista interna che in realtà contiene solamente i primi tre elementi quindi ho queste virgole interne che separano gli elementi delle righe le varie colonne della stessa riga e queste virgole più esterne invece separano le righe l'una dall'altra e come faccio a accedere ai singoli elementi beh ad esempio questo elemento qua ok che è il numero di medaglie d'oro 1,2,3,4,5 della sesta nazione che chi si ricorda qual è 1,2,3,4,5 della Russia e quindi gli oro della Russia come li faccio lo posso sapere come posso estrarli posso andare a prendere ovviamente la mia lista di liste che da adesso in avanti chiameremo tabella che non è una struttura dati nuova è fatta con le liste in un certo modo incastrate in un certo modo innestate in un certo modo allora voglio conoscere questo valore e questo per conoscere questo valore devo innanzitutto prendere guardiamolo questa figura mi interessa questo 3 qua sotto allora per arrivare a questo 3 devo prima di tutto selezionare la riga in cui compare quindi in questo caso la riga numero 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 count di 5 che cos'è è una lista è una lista che contiene quei tre elementi proviamo a fare prima vederlo count di 5 è una lista regola di tre elementi dei quali mi interessa il primo e quindi prendo il primo elemento di questa lista applico due volte di fila all'operatore di indicizzazione la parente di 4 perché count cos'è è una lista ok la posso indicizzare sì e allora scelgo l'elemento della lista il sesto il risultato di questa operazione immaginiamocelo tra parentesi questa qui a sua volta è una lista e se a sua volta è una lista cosa posso fare? e beh tutto ciò che posso fare sono qualunque lista in particolare andando a prendere un elemento quindi non è una sintassi particolare speciale l'uso normale delle operazioni che posso fare sui valori di tipo lista questo è l'uso effettivo poi noi come lo leggiamo? beh noi sappiamo che questa struttura di dati l'abbiamo costruita con una certa logica non sono liste di lunghezza qualunque messe dentro una lista sono liste di tutte la stessa lunghezza perché io le ragiono come colon e quindi mi è facile di dire che qui sto andando a prendere l'elemento che sta nella prima colonna della sesta riga cioè una coppia di indici dei quali il primo indice mi va a selezionare la riga e il secondo mi va a selezionare la colonna perché mi fa comodo mentalmente vedermelo così bidimensionale in realtà non è bidimensionale questa print qua è bella lineare allora direi se guardassi questa print direi che vado a prendere il primo elemento di una lista che è il sesto elemento di un'altra lista questo è ciò che succede davvero detto così però non mi dice nulla io preferisco a ragionare in termini vado a prendere nella prima colonna della sesta riga che è la stessa cosa è il modo in cui io interpreto uso questa struttura di liste annidate per rappresentare che è una struttura lineare per rappresentare una dei dati che nella mia mente sono bidimensionali sono tabellari ok e cosa posso farci quindi ovviamente qua se faccio un print di oro russia mi verrà fuori tre sono andato a prendere l'elemento giusto ok allora come posso gestire una struttura di dati di questo genere cosa ci posso fare vabbè prima di tutto immaginiamo di che ne so di volerla stampare questa tabella stampare questa tabella significa andare a stampare ogni stampare ti dici ho fatto print e la ristampata è bravo però così è brutta da vedere stampiamo la bella allora per stampare la bella io devo stampare tre colonne per ciascuna delle otto righe quindi dovrò stampare delle righe e sono otto e quindi ad esempio ciclo su un indice di riga e per ciascuna riga vado a potrei fare così print counts di riga counts ah questo è un primo primo passaggio intermedio stampare una tabella cosa vuol dire vuol dire stampare una per una le sue righe e questo mi stampa una cosa così ovviamente ho stampato una per una le sue righe ogni print stampato una riga diversa è chiaro che il formato che lui stia stampando è ancora il formato python non è un formato esteticamente comprensibile per stamparle bene dovrei invece per una singola riga devo stampare i singoli elementi ben spaziati ben allineati a quello che volete quindi non può dire vabbè io non stampo direttamente il count la lista qui sto stampando una lista e lui me lo stampa con la sintassi python per le liste ma magari stampo uno per uno gli elementi con un certo numero di spazi di distanza tra uno e l'altro quindi devo stampare che cosa per ogni elemento quindi per ogni colonna NO3 range 3 vado a stampare counts counts di riga di colonna counts sempre la S mi dimentico quindi al posto di questa print grezza prendo uno a uno i dati e li stampo adesso in questo caso viene una cosa un po' bruttina perché range scusate parenti di tonde su range non quadra che non c'entra nulla ecco me li stampa effettivamente mi stampa i primi tre poi i secondi tre ma attenzione me li stampa tutti uno a capo rispetto all'altro ma perché questo farà print quindi devo dire attenzione non andare a capo dopo ogni elemento perché altrimenti le colonne dovrebbero essere una a fianco dell'altra quindi per poter stampare le colonne una a fianco dell'altra dovrei dire di non andare a capo alla print e quindi se ci ricordiamo che la print aveva un secondo parametro un parametro opzionale che si chiamava AND che dice cosa vuoi mettere alla fine della riga normalmente lui ci mette una a capo io dico non metterci la capo lascia una stringa vuota che poi è un po' claustrofobico se faccio così perché a questo punto mi stampa tutti i numeri super appiccicati allora io voglio che i numeri siano non appiccicati ma spaziati e poi non tutti sulla stessa riga perché è vero che non voglio andare a capo sempre dopo ogni numero ma dopo ogni fine di riga sì allora cominciamo ad andare a capo dopo ogni filiale di riga vuol dire che io quando stampo un numero non devo andare a capo ma poi quando ho finito di stampare i numeri di una riga vado a capo questa print qua senza nulla semplicemente stampa la stringa vuota e poi va a capo e quindi mi da questo occhio dove l'ho messa questa print è dentro al foro di riga ma è fuori dal foro di colonna quindi il foro interno stampa il primo secondo terzo elemento poi esco dal foro interno vado a capo poi passo la riga successiva per la riga successiva stampo il primo secondo terzo elemento sempre sulla stessa riga finito questo foro interno vado a capo allora poi quello che mi manca semplicemente è poi di spaziare questi numeri tra di loro ma semplicemente basta che io questa cosa qua la metta dentro un fstring in cui vado a specificare un minimo di spaziatura che ne so di 6 6 caratteri sono numeri interi quindi uso D come specificatore di formato 6 come la lunghessa del campo in cui viene stampato ad esempio quindi ma un pochino sono abituati quando c'è una lista e devo fare qualcosa sui suoi elementi li devo andare a prendere uno a uno e quindi mi servirà un ciclo e quando ho una tabella e devo andare a prendere i suoi elementi mi serviranno due cicli uno dentro l'altro perché gli elementi da prendere sono in due liste una dentro l'altra quindi il ciclo più esterno mi itera sugli indici della lista più esterna e il ciclo più interno mi va in righe il ciclo più interno mi va a iterare sugli indici della lista più interna cioè le colonne poi questo è ancora un po' da sistemare perché io qua ci vedo un 8 e un 3 che mi creano disagio perché se anziché 8 nazioni ne avessi 10 o se ne avessi 6 sto codice qua non funziona no? ma vabbè ma non è difficile chiedere a Python di calcolare lui quanti elementi quante righe ci sono nella tabella e quante righe ci sono nella tabella è la lunghezza della lista più esterna la lista esterna ha tanti elementi quanti elementi ha? 8 non mi importa quanta roba c'è appesa a questi 8 elementi ma dal punto di vista della lista esterna lei c'ha 8 elementi quindi questo 8 altro non è che la lunghezza di counts fa 8 la lunghezza non mi dice quanti numeri ci sono andando a ravanare dentro le varie frecce no mi dice guarda quella lista lì 8 elementi poi cosa c'è appeso dentro possono esserci altri 1000 elementi dentro il primo dentro la prima cella ma l'importante è che la cella sia una sola e idem sulle colonne perché sono 3 3 perché lo so vabbè ma se ci fosse una quarto tipo di medaglia oppure ci fossero solamente due tipi di medaglia come si può adattare il programma alla dimensione dei dati effettivamente disponibili e beh anche lì quante sono le colonne quante sono le colonne se io so che counts di riga è la lista che contiene gli elementi di quella riga il numero di colonne sarà il numero di elementi di questa lista quindi sarebbe questo 3 è la lunghezza di counts di riga di riga e ovviamente uguale prima il primo vale 8 il secondo vale 3 ok un pochino tutte le volte che io vedo nel col c'è un numero che non sia 0,1 o meno 1 mi viene un po' il sospetto del tipo attenzione che qua il programma sta lavorando solamente in un caso specifico e non è generalizzabile c'è 0 ci sta 1 per incrementare ma poi gli altri numeri costanti gli altri valori numerici dentro il programma quasi sempre devono essere parametrizzabili allora questo è un modo di accesso alla tabella agli elementi della tabella per indice vedete che nei cicli for abbiamo usato dei for range quindi la variabile riga e la variabile colonna indicano l'indice di riga e l'indice di colonna ok però noi sappiamo che possiamo iterare sulle liste anche per valore non solo per indice in questo caso si potrebbe fare esattamente lo stesso la stessa cosa ragionando per valore ho 8 nazioni e quindi posso ciclare sulla lista counts delle medaglie in questo caso con questa ho chiamata nazione per non chiamare la riga per non confondere riga per me era l'indice nazione invece sono i dati di quella nazione che cos'è nazione messo così è il singolo valore dell'elemento della lista esterna quindi mentre riga valeva 0 1 2 3 fino a 7 nelle varie iterazioni del for in questo caso un'azione alla prima iterazione vale questa lista qui 0 0 3 0 è una lista e questa lista a sua volta può essere iterata con un altro for che a questo punto va a prendere nazione che è una lista e va a estrarre i valori non gli indici di questa lista e a questo punto posso stampare copio da sopra direttamente il valore senza andare a capo e poi vado a capo alla fine quindi è la stessa cosa sto iterando per valore anziché iterare per indice ma questo già lo sapevamo da quando abbiamo conosciuto le liste e il ciclo for quasi sempre abbiamo questa opzione la differenza la stranezza è che questo nazione che definisco nella riga 28 è un valore sì è il valore della lista counts sì ma questo valore è anche una lista non è più un valore finale e quindi essendo una lista ci posso iterare sopra il valore tipo lista è un valore come tutti gli altri lo posso usare normalmente e quando ho una lista che sia una lista diciamo così primaria oppure una lista annidata dentro un'altra non cambia nulla ok e così come ovviamente va bene questo se dentro il corpo del ciclo non abbiamo bisogno di conoscere il valore dell'indice e allora iteriamo sui valori se invece avessimo bisogno di conoscere il valore dell'indice verrebbe la prima forma poi fanno tutti la stessa cosa ok quindi per sapere quanto è grande una tabella me lo dici la tabella stessa vado a calcolare la lunghezza della lista esterna mi dà il numero di righe la lunghezza di una qualunque lista interna mi dà il numero di colonne e se mi chiedessero qual è il numero totale di medaglie per ogni nazione c'è la prima nazione quante medaglie ha ha vinto tre la seconda nazione una la terza nazione una e così via allora per far questo basta che io prenda una nazione per volta una riga per volta e di quella riga faccio la somma dei valori della colonne delle colonne di quella riga quindi ad esempio for nazione in counts print sum nazione nazione cos'è? la lista da tre la funzione sum data una lista di interi fa la somma e questo valore lo posso stampare e mi dicono che la prima nazione aveva tre medaglie la seconda ne ha una la terza ne ha una e così via laggiù in fondo forse era la Russia ne ha la cinque ok stampiamo facciamo così così e meno anche quando stampiamo sotto si vede mettiamo i titolini e quindi questa è un'operazione che si chiama somma per righe cioè di ogni riga faccio il totale di ogni riga e invece se la domanda fosse dimmi il numero di medaglie da ciascun tipo cioè quante medaglie d'oro sono state date? quante medaglie d'argento? logicamente non cambia molto basta che io faccia la somma della prima colonna o della seconda o della terza colonna solo che per come ho organizzato i dati prima ero fortunato perché se devo fare la somma per righe avevo una lista che corrispondeva già alle righe quindi questa lista qua faccio sum e lei prende la somma di questo più questo più questo ma se devo fare la somma di questo più questo più questo più questo così via i primi elementi di ciascuna lista e non c'è una funzione che me lo faccia qualcuno potrebbe dire vabbè allora for tipo di medaglia in range di 3 facciamo finta 0,1,2,3 e faccio la somma di che cosa di counts di b 0 o 1 o tipo cioè non c'è un modo di dire fammi la somma di tutti gli elementi il cui secondo indice è 0 o 1 o 2 indipendentemente dal numero di righe se faccio la somma di counts non funziona perché mi dice ma cosa è la somma questa è una lista cosa vuoi sommare tra di loro delle liste non esiste beh non voglio sommare delle liste voglio sommare il primo elemento di ciascuna lista e vabbè non lo puoi scrivere non c'è un modo di scriverlo e allora e allora non te lo fai a mano e allora diciamo che il numero di medaglie lo calcoliamo a mano andando a vedere la nazione in counts med uguale med più il numero di medaglie di quel tipo e alla fine potrò stampare il numero di medaglie nazione ricordiamo è la lista dei tre elementi e quindi c'è scritto che in totale sono state date speriamo tre medaglie d'oro tre d'argento e tre di bronzo controlliamo solo se è vero uno più tre più uno tre più uno più uno 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 sì è giusto evidentemente c'erano cinque gare questa stessa cosa la posso fare anche usando come ciclo foro interno gli indici forse è più chiaro quindi il tipo sono il tipo di medaglia che è un numero intero all'internamente posso prendere la nazione la riga in questo punto range length perché stiamo indiciando l'indice allora a questo punto sto sommando counts di riga scritto così è la stessa cosa di prima scritto così si vede meglio che sto andando a prendere gli elementi della tabella sto sommando sto sommando i valori di tante righe diverse perché sono dentro questo ciclo foro in cui faccio questa sommatoria e all'interno di queste righe vado sempre a prendere la stessa colonna il ciclo esterno è la colonna il ciclo interno è la riga allora quando il ciclo esterno che è la colonna il ciclo interno che è la riga sto analizzando la tabella per colonne tengo ferma la colonna e vado a vedere tutte le righe se invece il ciclo esterno fosse la riga e il ciclo interno fosse la colonna andrei a vedere la tabella riga per riga il ciclo interno è quello che chiaramente si muove più velocemente mentre sta tenendo fermo l'altro ok? quindi bisogna un po' abituarsi a gestirlo in questo modo così come l'altra cosa esatto se questo è quando lo stampa eccetera ok l'altra operazione di base sulle tabelle è crearla cioè immaginiamo che queste cose qua qui noi le abbiamo scritte perché conoscevamo ma immaginiamo di voler leggere dall'utente cioè parte vuota e la voglio leggere dall'utente allora come posso fare? beh dovrò prendere un utente che abbia tanta pazienza che abbia voglia di mettermi uno dopo l'altro questi 28 numeri e va bene supponiamo di averlo però fatemelo fare in un file diverso chiamo leggi medaglie così non ci confondiamo col file in cui le medaglie ci sono già quindi legge la tastiera i dati del medaglie quindi dovrò chiedere al mio utente ma innanzitutto magari so già quante nazioni ci sono magari non lo so e quindi dovrò scegliere come sempre succede quando acquisiamo un certo numero di dati dall'utente un modo per terminare l'inserimento quindi so già che sono 8 me ne devi dare 8 oppure inserisci poi metti un asterisco per fermarti il tipico ciclo wild che abbiamo quando inseriamo dei dati ma a parte quello facciamo finta di niente già di sapere quante sono le nazioni che sono 8 e le medaglie che sono 3 non andiamo adesso a complicarci sulla fase di input sappiamo già quanti dati devo leggere abbiate pietà di me facciamo 4 perché se no poi devo inserire i dati ragionano solamente sulla prima metà della tabella quindi come faccio a leggere allora dovrò leggere uno per uno questi dati quindi a un certo punto ci sarà il numero di medaglie che è un input ok int lo devo ripetere però per 4 per 3 prima era 8 per 3 volte questa cosa qua allora può aver senso e puoi metterlo dentro la matrice quindi io posso provare a ricostruire la stessa struttura di prima counts che cos'è una lista inizialmente questa lista sarà vuota è da qua prima di aver letto il primo dato il mio medagliere è una tabella con 0 righe 0 colonne poi cominciamo a leggere una riga per volta quindi for riga in range colonne medaglie non lo so sulle nazioni leggo le medaglie di una nazione anche qua non mi basta fare una input da sola perché devo farne 3 e quindi andrò a leggere colonna in range medaglie finalmente a questo punto potrò leggere questo valore e poi magari per aiutarci scriviamo anche tra parentesi qua la riga e la colonna di cui stiamo parlando ok riga colonna quindi sto stampando una cosa di questo genere numero di medaglie è 00 no questi numeri da parentesi sono il valore del ninja riga e del ninja colonna per riuscire a non perdermi e come vedete prima mi chiede le tre colonne della riga 0 poi mi chiede le tre colonne della riga 1 e così via è un ciclo in cui il ciclo esterno è la riga il ciclo interno è la colonna e quindi stiamo non stampando ma leggendo la tabella in ordine di riga salvo il fatto che per ora non stiamo leggendo niente perché lo stiamo mettendo nella variable M che poi buttiamo via questo M che ho appena letto dovrebbe andare a finire dentro la tabella counts riga colonna uguale M questo valore lo metto in quella riga in quella colonna concettualmente poi in pratica non funziona scritto così perché quando provo a fare il primo elemento 0-0 counts di 0-0 provo a mettiti dentro qualche cosa mi dice ma sei matto counts è una lista vuota quindi counts di 0 scordatelo non esiste count di 0 sarebbe la prima riga della lista ma non c'è me l'hai appena fatta vuota non prendermi in giro se counts è la stringa vuota count di 0 non c'è che sarebbe il primo elemento non posso assegnare un valore a una posizione che non c'è ancora infatti quando aggiungevamo elementi a una lista usavamo append giusto quindi in realtà questo valore m lo dovrei fare così c'è counts di riga è la lista che contiene riga 0 riga 1 riga 2 e ci aggiungo quel valore a quella listarella interna il problema è che questa lista deve esistere non c'è ancora e quindi posso aggiungerla qua counts.append lista vuota allora prima vedo se funziona poi proviamo a a vederla ah già poi devo mettere i numeri ok ha creato effettivamente una lista di liste di 4 elementi di 3 colonne allora cosa ho fatto qua sono partito da una lista vuota ok adesso devo leggere le domande della prima nazione comincio a mettere a creare una prima riga della matrice che non contiene ancora nessuna colonna quindi qui ho aggiunto la prima riga quindi ho aggiunto un elemento accounts quindi ho creato un elemento che a sua volta che cos'è una lista vuota dico ok creiamo una lista adesso questa lista non contiene ancora nessun elemento poi leggo dei numeri e questi numeri li aggiungo dentro questo counts di riga dovrebbe essere la riga che ho appena appeso che ho appena aggiunto deve essere la prima volta riga vale 0 la prima volta che passo di qua l'append mi crea il primo elemento cioè quello di indice 0 e quindi questo account di riga va ad aggiungere qualche cosa alla lista interna primo secondo terzo elemento poi torno su incremento riga aggiungo una seconda riga vuota e aggiungo gli elementi a questa riga vuota allora scritto così è un pochino a volte funziona forse è un pochino scomodo da comprendere quindi molto spesso negli esempi lo scriviamo questo è il modo più compatto però a molte volte negli esempi lo scriviamo in modo un pochino più indiretto dicendo senti quali sono le medaglie di questa nazione quello che prima avevamo chiamato nazione nazione punto append dm quindi cosa faccio qua leggo tante volte cioè dito tante volte per ogni nazione in ogni volta creo una lista vuota nuova ok e ci aggiungo in questa lista il numero di medaglie di quella nazione poi questa qua nazione che è una lista alla fine la posso appendere a riga account punto append nazione scusa qui ragione in un modo lievemente diverso anziché creare una lista vuota e poi riempirla dentro mi creo a parte una lista che contiene le tre medaglie e quando ce l'ho pronta che le contiene tutte e tre l'aggiungo è più facile visualizzare solamente fondamentalmente se io vado in debug su questa vedo che counts è una lista vuota nazione è anche essere una lista vuota non confondiamoci counts dovrà essere una lista di liste nazione dovrà essere una lista di numeri solamente e quindi faccio questi tre input in cui leggo il numero di medaglie uno il numero di medaglie che lo metto m lo aggiungo a nazione e quindi a questo punto un'azione con l'append contiene un elemento che è il numero di medaglie della prima poi passo la seconda colonna leggerò un altro numero due e con con questo un'azione punto append a questo punto la lista in azione avrà due elementi uno due passo al bronzo supponiamo siano tre m uguale tre nazione uguale uno due tre quindi ho creato una piccola lista che contiene solo le medaglie di quella nazione quando ho finito quindi sono uscito da questo ford delle colonne ho pronta la lista con tutte le colonne counts punto append nazione counts è una lista vuota nazione è una lista di tre elementi appendo inserisco come primo ulteriore elemento dentro counts questa lista qua così com'è e quindi vedete che counts è una lista di liste di una lista solo di tre elementi se lo vado a espandere vedo che l'elemento zero di counts è una lista la quale ha gli elementi 0 1 2 che sono le varie colonne c'è una domanda se 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 tu avessi già i dati o una tabella magari piena di zeri potresti usare l'uguale come abbiamo fatto prima ho già delle caselle e vado a sostituire il valore l'append mi fa ovviamente crescere allora ok la varia di nazione così ogni volta ad ogni ciclo crea no non c'è se è locale crea una nuova lista crea una nuova lista che temporaneamente prendere i valori a me non interessa la variabile mi interessa la lista mi interessa il valore creo una nuova lista e in questa lista ci metto dentro i valori poi questa lista l'aggiungo alla fine questa variabile in azione se guardate ha ancora in questo momento il valore della riga precedente ma non viene più usato anche perché subito dopo e adesso lo facciamo subito quando ripasso dalla riga 9 la linea 9 di codice con riga uguale 1 quindi la seconda riga la prima cosa che faccio è nazione uguale un'altra lista vuota e non vado a toccare la lista che c'era prima no io dico utilizzando il la prima sempre di riappendo non si va a diciamo a dichiarare quella variabile all'interno della nostra che vogliamo modificare si si lega all'indirizzo della lista modificando la lista no questo è un trip mentale che ti sei fatto tu no tu è molto più semplice nel senso che quando io faccio questo append sotto sto inserendo nella nella lista counts una lista allora modifichiamo il codice e vediamo di cosa stai parlando perché è un altro modo di farlo tra l'altro una cosa marginale noi qua abbiamo fatto l'append della lista dopo che ci ho messo gli elementi dentro però se io la mettessi qua questo append e quindi facessi l'append della lista vuota crea una lista vuota e subito l'append e quindi la metto dentro counts cosa succederebbe interessante da vedere nazione uguale a lista vuota counts vedi subito che si prende la lista vuota come primo elemento poi io a questo punto inserisco i valori 2 m uguale 2 vediamo cosa capita quando faccio questo append il 2 è comparso sia dentro nazione che già dentro counts perché in realtà l'elemento counts di 0 e nazione sono due alias per la stessa lista quando ho finito il primo form vediamo cosa succede quindi quello che ho fatto qua append in azione sto mettendo nel primo elemento di counts il riferimento a questa lista che ho appena creato che si chiama anche nazione due nomi per chiamarlo counts di riga oppure nazione quindi quando faccio questo append va a finire in quella lista lì che è visibile in due modi diversi quindi secondo elemento terzo elemento quindi va a finire vedete che crescono insieme ma perché in realtà quello che vedo qua e quello che vedo lì è la stessa lista ce n'è una sola numero di medaglie questa volta metto 1 append e ci sono già cosa aspettarmi adesso alla volta successiva quando riga uguale 1 cosa succede? cioè quando metto un'azione uguale vuoto mi va ad azzerare questi elementi che c'erano dentro counts no prima quando facevo append modificavo la lista e quindi viene vista modificata da tutti gli alias che puntano quella lista lì quando scrivo un'azione uguale sto modificando la variabile sto dicendo senti la variabile in azione adesso non voglio più che sia un alias per la prima riga fammela diventare un riferimento a un'altra lista vuota un'altra diversa quella di prima erano sinonimi adesso non sono più quindi ho tagliato il riferimento tra nazione e la prima lista e ho creato un nuovo riferimento a una lista nuova vuota e poi a questo punto viene appesa appesa vuota alla accounts e ci metterlo dentro i numeri va bene questa volta questi numeri cresceranno sia nella variabile in azione di comodo sia nel counts di 1 che in questo momento è un alias in azione quindi facciamo sempre attenzione non è che l'uguale crea un alias ma le parentesi quadre creano una lista quindi quella è una lista nuova sto modificando la variabile e quindi perdo gli eventuali alias precedenti o sto modificando il valore della lista qui è chiaro che sto modificando la variabile variabile uguale qualcosa di nuovo non c'è santo qui invece non sto modificando la variabile ma sto modificando il valore della variabile ci appendo ci ricerco ci cancello eccetera ok ci vuole un po' per per digerirle queste cose ma semplicemente alla fine il concetto è sempre lo stesso la differenza tra variabile e valore tra contenitore e contenuto si fa un po' di ginnastica poi si capisce per riagganciarmi anche allo spunto del vostro compagno mi chiedo facciamo un medagliere di tutti i zero un altro modo poi lo riempiamo con i valori effettivi con i valori effettivi questa potrebbe essere un'altra idea visto che ci stiamo incasinando con gli append lista vuote eccetera perché questa mia tabella che so che deve essere 8 per 3 o 4 per 3 nel mio esempio me la sto costruendo un pezzo per volta senti facciamo prima la tabella ci mettiamo tutti zero dentro e poi dopo andiamo a mettere i valori veri non è che ci la facciamo in un attimo scrivere ma sì potremmo dire che counts uguale una lista vuota poi per tante volte quante sono le nazioni ci metto una lista di tre elementi tra zero no e così ho una lista commento solo questa parte prima perché così eseguiamo una parte sotto in scurato in range nazioni no mi creo questa lista questa tabella fatta di zeri e poi dopo vado a leggere le singole posizioni quindi faccio il ciclo che facevamo prima for riga in range nazioni for colonna in range medaglie e c'era quella input di prima e a questo punto counts le righe ci sono già le colonne anche cambio il valore allora 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 eccoli qua cioè mi sono fatto già subito la tabella con tante celle quante mi servivano e poi sono andato a metterci dentro i valori quindi faccio come dire faccio prima tutte le append e poi faccio dopo tutti i dati in realtà di questo di nuovo c'è un miglioramento da fare perché chi l'ha detto che le medaglie sono tre non è detto che siano tre allora potrebbe essere costruiamo una lista di tanti zeri quanti sono le medaglie se ci ricordiamo che si può fare la moltiplicazione delle liste usiamo l'operatore di moltiplicazione se no facciamo un piccolo for facciamo tante volte quanti sono le medaglie e l'appendi zero e questo viene uguale ovviamente eh ho dimenticato la quarta riga scusate poi arriva quello che dice ma caspita però tu questa operazione qua la stai facendo tante volte uguale dentro un ciclo foro cioè calcoliamo una volta sola no cioè calcoliamo una riga vuota così e qui facciamo l'appendi tante righe vuote più furbo no adesso è facile perché tanti zeri ma ammetti che questa riga vuota fosse più complicata da costruire la costruisco una volta sola e poi la aggiungo e quindi ci metto dentro i dati 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 e e c'è un problema cioè sono tutti 4 questo è subdolo sono tutti 4 perché questa tabella counts è una lista di 4 elementi e tutti e 4 sono alias della stessa lista che si chiamava riga vuota cioè che io lo chiami counts di 0 o counts di 1 in realtà va sempre sulla stessa lista perché quando ho fatto questo append qua ho fatto un append del riferimento a questa lista qua che ho creato solo qua vedete la potenza dell'uguale l'ha creata lì fuori dal ciclo quanti ne ha create? una perché fuori dal ciclo c'è una sola volta dentro il ciclo riuso la stessa e quindi è una lista un po' strana in cui il primo il secondo il terzo il quarto elemento in realtà sono la stessa cosa quindi quando modifico il primo elemento sto modificando tutti gli elementi della lista infatti alla fine mi sono trovato tutti i 4 che sono quelli che ho messo nella riga 3 per modo di dire se vogliamo vederlo anche questo in debug qui sembra tutto a posto perché c'è questa riga vuota 0 0 0 io vado avanti e sto costruendo counts che ha tante righe fatte di zeri questo counts qua va bene se lo vedo da fuori è fatto giusto ma da dentro questi 3 zeri e questi 3 zeri non sono due liste diverse è la stessa lista che vedo due volte e me ne accorgo subito al primo input dove leggo il numero 5 per dire dentro m counts riga 0 colonna 0 uguale 5 e il 5 c'è in riga 0 colonna 0 ma anche in riga 1 colonna 0 ma anche in riga 2 colonna 0 ma anche in riga 3 colonna 0 perché sono tutte alla stessa lista ok quindi se vogliamo che le diverse righe di una tabella contengono valori diversi devono contenere liste diverse e quindi in fase di costruzione della tabella devo essere sicuro che sto costruendo liste diverse da attribuire a ciascuna riga quindi questo qua non va bene quindi o qua creo specificamente una copia di questa riga con la funzione list che crea una copia anziché un alias allora ogni volta saranno liste diverse oppure ci rimetto la moltiplicazione dove era lì dentro che a questo punto è il male minore forse ok quindi quando vedete stranezze cercate sempre di ragionare su purtroppo anche in debug non si riesce a vedere se due liste sono la stessa o contengono o sono due liste diverse che contengono gli stessi valori è un'informazione che non si vede te ne accorgi quando le modifichi una vedi che si è modificata l'altra oppure te ne accorgi andando a vedere i momenti in cui vengono create le strutture dati la creo con la parentesi quadra la creo con la funzione list qui sto creando roba nuova il più no con la tabellina di tutte le operazioni sulle liste c'erano alcune che restituiscono una nuova lista altre invece modificano la lista esistente allora dobbiamo essere ben coscienti di quali sono queste due categorie ed è un po' questo quello che viene raccontato qua qui ad esempio fa la stessa cosa nella slide tanto per agganciarci alle slide dove questa riga viene creata dentro il ciclo esterno così siamo sicuri che ogni riga ha una sua lista privata che poi possiamo modificare indipendentemente dalle altre ecco una cosa un'altra cosa più abbiamo visto come si leggono e come si stampano le tabelle poi c'è l'altro discorso ma che vi accendo solamente questa figura poi sarà oggetto degli esercizi che faremo nella seconda ora analizzare la tabella adesso nel caso della medagliere non ha molto senso parlare delle tabelle delle caselle vicine a una determinata casella cioè se io sono in una nazione una nazione sopra una nazione sotto non ha un significato particolare ma immaginate che questa struttura dati bidimensionale rappresenti un tabellone di gioco le pedine nel gioco della dama 8x8 le caselle del gioco io ho visto già che Roberta ha preparato dei file qua che si chiamano campo minato o campo fiorito dei vari giochini allora può aver senso chiederci o correlare il valore di una cella con quelle delle celle vicine quanti vicini ho diversi da zero qual è la somma delle celle a me vicine mi posso spostare a destra o in alto o a sinistra perché magari la cella è libera quindi molte volte questa struttura bidimensionale o la usiamo per categorie nazioni medaglie per dire allora va bene l'importante è accedere ai singoli dati ma a volte la possiamo usare proprio per rappresentare delle mappe geografiche insomma logiche geometriche e allora questo slide qua ci ricorda che data una cella di indice riga i colonna j è possibile facilmente arrivare alle celle che ci stanno intorno incrementando o decrementando l'indice di riga salgo scendo incrementando o decrementando i incrementando o decrementando l'indice di colonna j mi sposto a sinistra a destra se l'incremento e il decremento insieme mi sposto sulle diagonali e poi devo fare molta attenzione ai bordi perché i-1 esiste se i è diverso da 0 i-1 esiste se i è minore della lunghezza del numero di righe minore non minore uguale e idem j ok deve essere compreso per poter andare alla cella a sinistra j deve essere maggiore o uguale a 1 maggiore di 0 per poter andare alla cella a destra j deve essere minore del numero di colonne minore o uguale al numero di colonne meno 1 no minore del numero di colonne meno 1 perché se fosse uguale al numero di colonne meno 1 sarei già sull'ultima colonna quindi non posso sommarci j più 1 deve essere minore del numero di colonne e quindi minore o uguale al numero di colonne meno 1 e quindi j minore o uguale al numero di colonne meno 2 un po' di arimetica da fare quindi non è difficile è noiosissimo perché quando tu analizzi una lista devi fare attenzione al primo all'ultimo elemento quando tu analizzi una tabella ed è data una casella analizzi le sue vicine devi fare attenzione alle caselle della prima riga a quelle dell'ultima riga quelle della prima colonna dell'ultima colonna e ai 4 angolini ciascuno delle quali ha un insieme di vicini diverso al centro è facile hai 4 vicini nelle direzioni cardinali e 4 nelle direzioni diagonali quando sei vicino ai bordi invece prima di accedere all'elemento devi assorbirti una catena di if per andare a vedere se l'indice ti permette ah se in quella casella c'è quella sopra c'è quella sotto oppure no ma questo lo fate poi divertendovi di più con i giochini oppure c'è poi il trucco di fare una cornice in più intorno di zeri ma questo non ve lo insegno oggi ok quindi adesso facciamo un intervallo e poi proviamo a mettere in pratica su un esercizio meno noioso del mio queste tabelle grazie a tutti grazie a tutti